Giovedì 4 maggio ci troviamo a Milano al Palazzo delle Stelline per un workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore, tema della giornata l'ambiente bagno. Un'occasione per capire insieme agli oltre 400 progettisti intervenuti a questa giornata di formazione le novità presenti oggi sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Per noi è un'occasione comunque importante perché siamo un'azienda che punta molto sui servizi e non sul prodotto. I servizi ovviamente non hanno uno showroom o un catalogo quindi devono avere l'occasione di essere spiegati sul perché Carmenta offre questo tipo di servizi. Noi ci occupiamo di tecnologie per il benessere sia per uso pubblico riferito agli alberghi che delle soluzioni mirate e uniche nel mercato per il mercato del singolo privato. Per noi la zona bagno, riferendoci appunto al mercato privato, è diventata una zona di living, una zona dove le persone possono creare dei nuovi ambienti, creare esperienze rispetto a quello che si chiedeva il bagno del passato. Quindi offriamo dei servizi particolari riferiti chiaramente al wellness per rendere sempre più vivibile l'ambiente del bagno. Stiamo aproponendo un nuovo tipo di cabina che chiamiamo Equilibrium Circle, che noi chiamiamo la Family Sauna, che è molto importante in quanto gli under 18 risulta ancora sconsigliato l'utilizzo di questa tecnologia come la sauna finlandese. Noi abbiamo questa nuova tecnologia che permette un utilizzo a 360 gradi della sauna finlandese. Grazie! 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 Grazie!